Dopo il calcio scommesso e il calcio mercato che ancora non è chiuso, finalmente si gioca a pallone. Quando si gioca a pallone scende in campo anche la signora in giallo-rosso. Naturalmente parleremo della Roma. C'erano due fuori classe, ci sono ancora De Rossi e Totti, gli altri sono tutti giovani, una garanzia in panchina Zeman. Non ha ancora vinto niente, che sia l'anno buono noi lo speriamo. Una campagna a twisti d'applausi. Qualcuno dice che sarà l'antagonista della Juventus e noi che siamo la signora in giallo-rosso diciamo che forse è la Juventus che sarà l'antagonista della Roma. Io credo che sarà una stagione piena di soddisfazioni. Ovviamente noi soddisfazioni o no, sempre Roma ti fiamo. L'appuntamento è venerdì 24 per la prima puntata alle ore 23 e poi ogni lunedì e ogni venerdì su T9 per tutta la stagione. Volete sapere le novità? Beh, guardate la prima puntata, io non ve le dico, ci sono sorprese, sorprese da Champions League.